La valutazione di questo prodotto di Brown è di 9.2 voti su 10. In questa selezione è il più economico. I suoi pregi sono. Facile da usare. Facile da pulire. Cura facile, durabilità, versatilità, robustezza. In basso, nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto. Il voto finale assegnato dalla nostra redazione a questo prodotto di Kenwood è di 9.2 su 10. Questo è il migliore di questa selezione. Questi sono i suoi punti di forza. Robustezza. Facile da montare. Durabilità. Comodo. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Livello del rumore. Puoi acquistare questo prodotto o scoprire maggiori informazioni cliccando sul link che trovi in basso nella descrizione del video. Il voto finale aggiudicato da questo articolo di Ariete è di 8.8 voti su 10. Risulta avere il miglior rapporto qualità-prezzo. Le sue principali funzionalità sono. Facile da pulire. Facile da usare. Versatilità. Cura facile. Robustezza. Durabilità. Se vuoi avere maggiori informazioni e vuoi conoscere il prezzo di questo articolo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Questo prodotto realizzato da Moulinex ha conquistato una votazione di 9.2 su 10 punti totali. Online, risulta essere il più venduto. Viene molto apprezzato per queste caratteristiche. Facile da usare. Facile da pulire. Cura facile. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Durabilità. Livello del rumore. Se ti interessa questo prodotto e vuoi saperne di più o semplicemente vuoi conoscere il suo prezzo. Clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Philips Frullatori. Con questo articolo si ha giudicato un voto finale di 8.8 su 10. Risulta essere al momento il prodotto più regalato. I suoi punti di forza sono. Stile. Facile da usare. Robustezza. Facile da pulire. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Comodo. Se cerchi maggiori informazioni e vuoi vedere il prezzo aggiornato di questo prodotto controlla il link che trovi nella descrizione sotto il video. Il voto complessivo assegnato a questo articolo di Russell Hobbs è di 8.8 su 10. Per questa categoria, risulta al momento essere il più votato con 11.536 valutazioni globali. Le sue qualità sono. Facile da usare. Facile da pulire. Comodo. Cura facile. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Robustezza. Il prezzo di questo articolo, insieme a maggiori informazioni è consultabile attraverso il link che trovi in basso nella descrizione del video. Brown ha realizzato un prodotto a cui abbiamo aggiudicato un voto complessivo di 8.8 su 10. Risulta al momento essere il più scontato di questa selezione. Le sue peculiarità sono. Facile da pulire. Robustezza. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Comodo. Trovi il link di questo prodotto con tutte le informazioni e il prezzo aggiornato in basso nella descrizione del video. La valutazione finale assegnata a questo articolo di SMEG è di 9.2 voti su un totale di 10. Risulta essere il più esclusivo di questa selezione. Questo prodotto è caratterizzato da un'elevata qualità. È un articolo capace di accontentare un po' tutte le tipologie di utenti. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato.